Buongiorno da Pienza Radio 67, Michelino DJ. Sopralluogo sulle due rotonde incriminate dei fatti che ieri vi ho raccontato. Vedete già che confusione da mattina gli iraniani accampati da una parte, ai sinistri blindati. Guardate, guardate, guardate che situazione. Fra poco avverranno, non si sa nemmeno come andrà a finire oggi la giornata. È una cosa incredibile. Traffico vorticoso, vorticoso, vorticoso. Una cosa pazzesca, pazzesca. Queste due rotonde, guardate, sembra che non succeda niente ma l'hanno acceso dei fuochi per la notte, hanno brindato e hanno inneggiato i loro santi. Fra poco qui scatenerà l'inferno, succederà di tutto. Ciao, ci siamo conosciuti insieme.